Roberto Corsetti ci siamo visti l'anno scorso buongiorno a voi abbiamo parlato del nostro Tonino Guerra questo bel personaggio che vi avete messo sulle vostre etichette quindi avete un'identità forte fortissima assolutamente l'Emilia Romagna è lì a distanza di un anno cosa ha fatto Montaia in più? Sicuramente abbiamo la consapevolezza di fare un bel prodotto di avere avuto nel corso di un anno un bel seguito di clienti che ci danno la forza per continuare ad andare avanti esatto la consapevolezza dei clienti ovviamente che dobbiamo proseguire su questa strada per mantenere la qualità del prodotto e adesso è ora il momento di vedere come risponde il mercato e tirare le somme Parliamo di vino avete qualche novità? Novità particolari no diciamo che abbiamo inserito un Sangiovese DOP nella linea che è la nostra linea di pregio che è la selezione oro con questa etichetta qui che sarà il nuovo Vese un Sangiovese base un Sangiovese DOP inseriremo molto probabilmente su questa linea potremo uscire con un pochettino di abbiamo circa 2500-3500 bottiglie di pino bianco da poter inserire in gamma abbiamo acquistato un terreno l'anno scorso nella zona di tassello che speriamo in futuro che ci dia una produzione maggiore per soddisfare tutto il mercato perché onestamente fortunatamente quest'anno la riserva l'abbiamo finita quando era ottobre e non avevamo più prodotto ci stiamo sviluppando nel mercato estero e abbiamo avuto diversi contatti e soddisfazioni se non sbaglio il vostro vino io l'ho visto a Bologna da Italy sì 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 siamo presenti a Fico a Fico che per il momento ha dato delle soddisfazioni piacevoli e adesso vediamo anche lì come sta andando avanti ovviamente era bello esserci per essere di fronte a un palcoscenico internazionale quello che vuole essere Fico a Fico a Fico a Fico a Fico